Cresce nel territorio la banca di ripatranzione del Fermano. A stilare un quadro sull'andamento positivo del bilancio anche quest'anno il direttore generale Vito Verdecchia, oggi nostro ospite. Abbiamo tenuto l'assemblea dei soci pochi giorni fa. È stata un'assemblea che ha approvato il bilancio del 2022, tra l'altro. Ed è stata appunto un'assemblea verso la quale abbiamo portato dei dati che sono stati molto positivi per l'esercizio appena trascorso. La banca ha chiuso con un utile molto importante di oltre 3 milioni e mezzo di euro e quindi ha rafforzato ulteriormente il proprio patrimonio che alla fine non è nient'altro che quella cassaforte attraverso la quale la banca riesce poi a sostenere tutte le attività a fianco delle imprese, delle famiglie, degli individui, degli artigiani, insomma tutto quello che è il tessuto economico e sociale che rappresenta il nostro poi per vocazione, il nostro riferimento da sempre. Vito, tante anche le iniziative e l'impegno che la banca investe per il territorio, la sostenibilità e per i giovani? Sicuramente, l'anno appena trascorso ma anche questo in continuità anche nel piano strategico che il Consiglio ha adottato per il triennio iniziato nel corrente anno fino al 2025, si è caratterizzato per una forte attenzione sia ai temi, ovviamente la tematica della cosiddetta ISG, quindi tutta la tematica della sostenibilità ambientale e sociale e della responsabilità di impresa e mi piace ricordare l'iniziativa Banca Bosco che è stata un'iniziativa in collaborazione con Federcasse e Lega Ambiente che ha visto coinvolti anche i giovani soci ma mi piace ricordare anche tutte le attività che la banca comunque sia al di là del gruppo giovani soci porta avanti per sensibilità appunto verso il mondo dei giovani, quale ad esempio i progetti legati al 110 e l'Ode che sono progetti di educazione economico-finanziaria verso il mondo delle scuole con dei PCTO che abbiamo quindi che sono i percorsi di alternanza scuola-lavoro elargiti attraverso della formazione che abbiamo portato avanti sia con il liceo classico che proprio in questi giorni anche con il liceo scientifico. Un ulteriore punto sul quale mi piace prestare e focalizzare l'attenzione è legato al tema della formazione perché i giovani e anche i giovani interni alla banca proprio in questi giorni ho avuto il dato consuntivo del 2022 e abbiamo erogato ben oltre 4.000 ore di formazione elargita ai dipendenti per una media quindi di circa due settimane lavorative dedicate esclusivamente alla formazione e alla crescita soprattutto ovviamente dei giovani presenti all'interno dell'azienda che saranno il domani del nostro istituto. Vito abbiamo ancora qualche secondo, qual è il riscontro dei giovani rispetto a queste iniziative? Il riscontro è un riscontro molto favorevole perché devo dire che probabilmente rispetto a noi adulti proprio in mondo dei giovani soprattutto per quanto riguarda le tematiche della sostenibilità della crescita anche a livello formativo sono molto più sensibili di quello che possiamo immaginare e anche di quello che possiamo in qualche modo di quanto possiamo esserlo noi più adulti quindi di questo sono molto contento e sicuramente continueremo a puntarci su queste tematiche. Grazie al direttore Vito Verdecchio io vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.